Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Grazie e benvenuti sul mio canale. Oggi trick e track e trick di tra di Aya. Di Aya? Si trick e track e trick e trick di Aya oggi. Stai attenti. Volevo dire di giochi preziosi. È arrivata una scatola gigante. Sì, gigante. Gigante. Adesso mamma ti chiudi un attimo gli occhi perché te la do già scarpata. Aspetta che abbiamo anche tutte le istruzioni, eh. Ferma, eh. No, no, no. Tira indietro le mani un attimo. Perché prima devo mettere lì per far vedere bene. Non toccare. Ecco. Posso aprire? Sì. C'è la Glitter Factory del LOL, Sofì. Bello, bello, bello. Andiamo a prendere le LOL. Adesso prima l'agua. Aspetta. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Qual è? Glittering i lolli. I lolli? Ma li abbiamo appena presi i lolli, poveri. Sofì sta giocando con la roulette. Adesso si fa così. E si glittera tutta perché i brillantini vanno qui, poi lì vanno sopra. Hai visto? Non c'è già tutta la spiega. Siete pronti? Sì, siamo pronti solo a fare disastri. A fare disastri di brillantini. State attenti perché vi arriveranno anche a voi a casa una pioggia di brillantini. Adesso che apriamo. Pronti? Procediamo con l'unboxing. Tiriamo fuori dalla scatola tutte le cose che ci sono dentro. Super velocità. Oh, guardate. C'è una valigetta. Eh, quella allora la apriamo dopo. Cosa c'è? Fai vedere un po'. Guarda lì la mia scatolina. Ah sì, c'è il manico, una valigetta. Vediamo dopo cosa c'è. Dai. Allora, c'è la piazzaforma. Sì. C'è questa ragazza è una cosa stupenda. C'è una cosa stupenda. La prima cosa stupenda è che ci sono i chiedini, quindi le puoi mettere in esposizione. La seconda è che gira. Wow. Scarta, scarta e monta. Scarta, monta e scarta. Scarta e monta. Allora, intanto monta, vieni, mettilo qua al centrale. Mettiamo questi. Poi che si può fare? Uh, giro lì. Sì, si glittera tutto. E tutti i glitter si sbargono per casa. Ah, è vero. Oh, Dio, guardate un po'. Sono bellissimi. Glitterissimi. Noi adesso vi facciamo vedere anche i fasi. Aspetta, neanche li apriamo. Eccoli qua. Quattro fasi. Rosa chiara, rosa un pochino più scura, un verdolino e un nero. Sofì, sai che cosa stavo pensando? Cosa? Che potremmo fare con il fasi nero? La puma. Voi vi starete chiedendo, ma Sofì, adesso dove li metti? Che non hai più spazio. Dove li metterà? Sopra. Ah, il secondo piano possiamo fare. Guardate. Il secondo piano della factory ci sono gli altri barattolini. Siamo pronti ad aprire la scatolina? Sofì? Sì. Pronti? Vengola a vederlo, eh. Questo non ce lo perdiamo. Vai. Oh, quanti sacchetti. Sì. Io ho tutto fuori, presto. Vi starete chiedendo. Ma è fatta male? Hanno messo le LOL? No, perché? Uno è la LOL e uno è il manichino. Ah, iero, c'è il manichino per fare le prove, dai. Apriamo il manichino. Le prime prove le facciamo con lei, così siamo tranquilli. Gli mettiamo la mascherina. Ah, perché... La sistemiamo. Ragazzi, non sono tutte bustine di lei. Alcune sono tipo colle. Eh, dai, apri, apri, Sofì, che non vediamo l'ora. Apriamo prima le colle. Dai, dai. Ecco che la factory prende forma. Facci vedere il pennello di là. Giro la base. Eccolo di qua. Un po' di qua e un po' di là. E adesso, Sofì, chi mancherà? Sofì? La LOL. Io non vedo l'ora di vedere come funziona. Apriamo. Benvenuta. LOL bellissima! Con i capelli bianchi che sembra una vecchia. Ma guarda che bel trucco che ha. Ah, ha i capelli bianchi. Mi ha avuto un'idea fantastica. Sì, qual è? Li fazziamo le trecine dietro di rosa. Uh, guardate come sono bella. Adesso mi vesto e intanto vi faccio vedere, eh. Perché poi dopo mi sa che mi toccherà una pioggia di brillantini. Guardate, aspetta, Sofì, c'ha anche il rossetto bianco. No, no, sta cercando di prendermi. Non ce la farà. Non ce la farà. Aiuto, ce l'ha fatta, lo sapevo. Aspetta, visto che abbiamo due outfit diversi, uno lo mettiamo a lei e uno lo mettiamo a manichino. Va bene, d'accordo. Concordo, concordo. Perché se no, poverino, rimane nudo. Eh no, eh. Eccola lei, la nostra makeover babe. Vedete, vi fanno vedere anche tutti, è una speciale ovviamente, e fanno vedere tutti i possibili abbinamenti, capelli verdi, capelli neri glitterati, con i capelli fasi e rosa, con tutti i colori diversi. Sofì si divertirà un sacco, riempirà la casa di brillantini e ci metteremo tutto il pomeriggio a pulire. Eccole! Vediamole un po' che belle tutte e due in bianco, tutte bianche, pronte per essere brillantinate o fasate. Allora, iniziamo subito. Allora, devi Sofì, aspettami, dobbiamo prima di tutto mettervi una mascherina sul viso. Sì. Ok? In questo caso io li voglio mettere quella all'uva. Quella all'uva, perfetto. Allora. Aspettami che vengo a vedere. Che poi, se non... Che poi penso si possono riutilizzare. Allora, che cosa? Le mascherine o le... Le mascherine. Penso di sì, secondo me, se le mettiamo bene, Sofì, un po' di volte si possono riutilizzare. Eccomi, sono pronta. Non ci vedo niente, mi fido di voi, eh. Di che colore mi fate? Allora, dice Utilizza la colla turchese per applicare i glitter e la colla rosa per applicare la foccatura. Cioè i fasi. Cioè i fasi. Allora, io vorrei fare queste teccine meravigliose fasi rosa. Allora, prepariamo il tutto. Intanto spogliamola. Allora, poi la mettiamo qua dentro. Mettila bene, eh. Che non cada. Prova un po' a girarla più giù. No, ma con giovane, con giovane. Mettiamo la colla. Questa. Per i fasi questa. Sì, quella rosa. La apriamo. Prendiamo il pennellino. Guarda, è già cascato quello che mi serviva. Capite voi come siamo messi. Cosa combineremo oggi? Un gran pasticcio. Via! Prendiamo questo pennellino lo immergiamo nella colla. Sette figlie di mamma di me. Perché io ho già la visione. Ho già la figura in mente che verrà in testa. Perfetto. Diamo la colla. Così. Basta, basta, per l'amor di Dio. mettiamo questa qui. Aiuto. Ho paura che cada tutto. Mamma mia! Chiudi bene adesso. Aspetta. È un momento più bello. Siete pronti? Pronti? Via! Forse va a girare tra l'altra parte. La gira anche nell'altro verso. Funzionato? Allora, gli è rimasto sulla testa. Sofì è partita con una cosa difficilissima, con la fasatura delle trecce. E mi sono un po' impolverata. Adesso mi sistemo, eh? Sì, adesso abbiamo deciso che cosa fare e con che colori. Ecco qua tutta la stesa. Sofì ha scelto la maglietta con il rosa, la gonellina, le scarpette. Eccomi pronta all'incollaggio. Adesso Sofì mi mette la colla su tutta la magliettina e la fascia. Ecco che abbiamo messo la magliettina a suo posto. Vero Sofì? Pronti? Poi ci mettono i glitter. Ho paura di farla cadere. Eccola là in posizione. Pronti? Capo all'ingiù. Via! No aspetta, devo mettere i glitter Metti i glitter lì, dai. Nell'altra metà. Eccoli quelli verdi, vediamoli. Basta Sofì. Ops. Ecco qua, glitter verdi. Sono troppi. Uno e due. Pronti? Sì, io sono pronta. Attenti, via. Perché tre stelle in giù non lo so se prende bene. Io vedo tutto verde Sofì, Così cosa è successo? La magliettina non è che è proprio questo bene. Però adesso la sistemiamo. Va bene. Allora. Prendiamola. È tutta verde, c'è un po' di capossa verde. Va un pochino rivestita. Adesso la sistemiamo. Sì. Adesso è passata la gonna Sofì. La gonna Fasi. Però proviamo la tecnica di apri il barattolo e pucciacelo dentro. Perché così vengano un po' meglio. Questa è la nostra guanellina Fasi. Questi sono i nostri accessori glitter. E adesso abbiamo il barattolo. Adesso. Gira. Oh. Molto favore. Poi di lato. Ora. Lo inzuppiamo. Questa è la tecnica in colla e puccia. In colla e puccia. Allora ragazzi. È stato divertentissimo. Un po' difficile. Però soprattutto. Sono più facili da fare i suoi capelli. Perché poi sui vestiti si rovinano. Un po' mettendoli. È un po' più difficile. Tanto poi quando. Adesso le mettiamo tutte sotto l'acqua. E... Faccele vedere tutte sotto i codini brillanti. Un po' di Fasi. Oh queste sono le nostre eh. Un po' di codini. Oh guarda unicorn con i codini Fasi neri. E ancora. Vai falle girare a Sofì gli piacciono. Quale è a Sofì con le ti piace di più? Non lo... Sinceramente mi piace tanto lei. Lei è bellissima. Con i codini dorati è venuta molto molto carina. La nostra core champ. Abbiamo cercato di provare tutti i colori. E tutte le finiture. E adesso tocca a... Voi. Diteci se vi piace. Vi piace ragazzi? A me sì tanto. Mi raccomando ragazzi ci vuole un genitore perché si sporca tutto. Noi abbiamo riempito completamente il tavolo di glitter. Abbiamo fatto il tavolo di glitter. Proseggete tutto. Guarda adesso sono anche rimasti qui in giro. Sì un po'. Ma poi vanno via. Noi li laviamo. Li puliamo. Poi è anche bello il tavolo glitter. Il tavolo glitter. Vi piace? Adesso noi li andiamo a mettere sotto l'acqua e si ricomincia la capo. Ragazzi spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Mettete like, iscrivetevi al canale, attivate la campana, dindone, dindone e ciao. Alla prossima. Ciao.